Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Bella ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Among Us. Sto vedendo che veramente questo gioco vi sta piacendo da morire e veramente devo ringraziarvi per tutto il supporto che state dando al mio canale. Vi consiglio di passare innanzitutto anche dai miei social sotto in descrizione perché c'è anche il sito Viola dove streamo quasi tutti i giorni, quindi vi consiglio di passarci. Oggi siamo qui per vedere i veri trucchi per giocare come dei pro player su Among Us. Quindi allora innanzitutto dobbiamo valutare bene le varie situazioni. Direi di buttarci così di prepotenza dentro una lobby pubblica a caso, siamo in questa qua. E adesso vi farò vedere alcuni tips che sono veramente delle chicche chicche che vi faranno diventare quasi dei pro player su questo gioco. Non dico dei pro player che vinceranno tutte le partite ma se avete dei buoni teammate magari quando siete impostori o riuscite ad individuare i vostri crewmate riuscirete diciamo a fare ottime ottime cose. Innanzitutto qua siamo crewmate. Iniziamo col dire di una cosa. Appena saldata la partita io vi consiglio di andare in admin. Andate in admin e aprite la mappa per vedere più o meno dove sono le persone. Con admin voi potete vedere attraverso questo simbolino in una stanza quante persone ci sono. In questo caso abbiamo due persone in caffetteria, tre in ossigeno, due in weapons, una in admin e una in upper and gain. Poi un'altra cosa, ecco ad esempio in questo caso Sbiro infame è subito andato a fare il download. Quindi ha fatto una fake task. Perché ragazzi? Perché? Perché praticamente se uno va subito a fare il download è un errore. Infatti bisogna fare innanzitutto l'upload in un qualsiasi posto. Ci sono un sacco di posti, c'è navigation, c'è upper and gain, c'è weapons dove si può fare l'upload. E poi bisogna andare a downloadare appunto sotto in admin. Quindi se vedete delle persone di varie cose del genere o sono veramente scarse, che non sanno come funziona il gioco, come può essere magari in questo caso. Oppure hanno fatto una fake task. Quindi una task fake. L'impostore infatti possono fare delle task fake attraverso le quali diciamo che non fanno finta di essere delle persone normali, anche se in realtà sono degli impostori. Altri consigli che vi do, ci sono alcuni lobby in cui ci sono le visible task. Le visible task ce ne sono alcune. Ve le faccio subito vedere. Una delle visible task è shield. In questo caso quando viene fatta questa missione, che in questo caso non c'è shield, vengono emesse delle luci qua vicino all'astronave. Quindi se uno fa questa missione e si vedono le luci, vuol dire che è veramente una persona buona. Se invece non si vedono potrebbe essere che ha fatto una fake task o addirittura che magari non ci sono le visible task attive nella lobby. Un'altra visible task è quella dei cannoni della nave. Infatti quando viene fatta questa missione, si vedono dei cannoni sparare dalla nave. In questo caso non si vedono perché penso che le visible task siano disattivate. Ma mi raccomando, se entrate in delle lobby in cui le visible task sono attive, ricordatevi di far questo in compagnia magari di alcuni crewmate. Così loro vi possono rendere delle persone diciamo non impostore. Qua abbiamo anche questa qua, lo scanner è una visible task in madbay. Questa qua adesso in questo caso non c'è da fare la missione. Nel mentre è stato trovato un altro colpo, io continuo a reportare Sbiro Infame che secondo me ha commesso un errore iniziale molto molto grave. Altri errori molto molto comuni, altri tips e tricks che vi permettono di vincere le partite. Sicuramente ricordatevi il reactor, c'è la fake task, quella della mano. Quindi se magari uno sta lì vicino ma voi provate e non vi fa fare il reactor vuol dire che sta facendo una fake task. Perché se facesse veramente una task vera si completerebbe perché appunto quella missione lì va, la mano deve essere schiacciata a due persone. Quindi se lui non la sta facendo, provate voi, in quel caso lui è un impostore. Quindi potete reportarlo. Questi qua sono i trucchi che possono usare quelli della crewmate. Quindi delle persone normali come in questo caso io e in questa partita. Se invece ragazzi siete delle persone cattive, quindi degli impostori. Magari di solito le lobby sono da due impostori. Gli impostori hanno anche loro i loro trucchi. Innanzitutto vi consiglio sempre quando uccidete una persona di entrare sempre dentro una botola. Quindi di ucciderla sempre in stanze in cui è presente una botola vicino. Ad esempio storage è un posto molto molto rischioso, qua abbiamo trovato un impostore, è un posto molto molto rischioso nel quale uccidere le persone perché appunto non ci sono botole vicino. Ad esempio in questo caso, fate finta che c'è una persona qua, io la uccido, entro dentro e scappo via. Altri piccoli trucchi, ricordatevi ragazzi gli impostori, dovete sempre uccidere quando siete isolati. In questo caso io potrei uccidere questo, entrare nella venta e scappare. Ricordatevi ragazzi che gli impostori sono gli unici che possono uscire dall'event. Quindi nel caso vedete qualcuno uscire dalla venta è per forza un impostore. Quindi in quel caso andate a fare il report e via. Altri piccoli trucchi, mi raccomando, un trucco molto importante questo qua, del coso finale, attraverso voi potete far partire un emergency meetings. Quando alla fine della partita rimanete magari in due impostori vivi e ci sono due ancora persone vive, in quel caso praticamente avete vinto, basta con un impostore killi una sola persona e avete perso. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna uscire un attimo dall'emergency meeting, quindi dalla rotonda, aspettare 5 secondi che magari c'è il countdown, quindi quando c'è 5, 4, 3, 2, 1. Quando parte il 5 voi uscite, aspettate il 3, quindi viene uccisa la persona, poi fai emergency meetings e quindi a quel punto diciamo che ti salvi. Quindi questi erano i trucchi ragazzi per diventare veramente forti su questo gioco. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, scrivetemelo a sapere naturalmente sotto nei commenti, se volete anche altri video. Noi ci becchiamo sempre in un nuovo video di Among Us o di altri tantissimi giochi. Detto questo, bella ragazzuoli! Noi ci becchiamo sempre in un nuovo video!